Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di sabato per questo 25 aprile ragazzi. Oggi facciamo un'analisi ciclica sui cicli di lungo periodo di Bitcoin. Riprendiamo Bitcoin ragazzi, riprendiamo il nostro asset preferito da certi punti di vista e andiamo a guardare uno dei miei grafici che lo scorso anno avevo pubblicato anche in una intervista in diverse masterclass che avevo fatto ed era un grafico ragazzi che parlava della situazione di Bitcoin di lungo periodo grafico settimanale logaritmico in questo caso e andiamo a guardare dove siamo in questo momento che cosa sta succedendo sul ciclo di lungo periodo di Bitcoin, più che lunghissimo ragazzi direi lungo, quindi da qui ai prossimi 4-5 anni perché in sostanza c'è l'Halving alle porte ragazzi. In settimana voglio fare anche con voi un'analisi sempre ciclica su quello che è e potrà accadere durante questa fase di Halving ragazzi perché ci sono delle notizie contrapposte che vanno valutate. Per esempio abbiamo la fase del ciclo annuale, ragazzi lo vedremo anche oggi, che sembra essere negativo e a meno di situazioni di eccezione dovrebbe essere negativo e quindi ci porterebbe fino a dicembre a stare in questo limbo, in questa situazione di trading range barra laterale ribassista. E mentre invece i grafici di lungo periodo, così come l'importantissima struttura fondamentale dei mercati criptovalute, quindi faccio riferimento all'Halving in questione, porterebbero alla famosa deflazione di Bitcoin. Il problema è capire sempre una cosa ragazzi, la deflazione di Bitcoin è matematica ed è anche scontata dai mercati perché l'Halving è un processo scontato dai mercati, il problema è sempre uno, il timing ragazzi. Quando e se questo fenomeno di natura fondamentale potrà agire sui prezzi del re delle criptovalute, è lì che andremo a concentrare le nostre analisi ragazzi perché il quando in questo caso, quindi il timing, è la variabile più importante ed è quella che cambierà un po' tutto il nostro, la nostra operatività anche a livello di trading. Allora andiamo subito a descrivere dove ce l'avamo lasciati, ma insomma questo video, questo ragazzi, questo grafico, scusate, è un grafico che io ho fatto vedere penso più di un annetto fa, quindi insomma così com'è non l'ho mai modificato ragazzi. Allora tempo fa avevo indicato come questa cosa che vedete, proprio questo scritto ragazzi che vedete, era esattamente così e così il mercato ha fatto, purtroppo devo essere sincero perché mi aspettavo più forza almeno nel mercato di bitcoin, ma non è tutto perso assolutamente, potrebbe essere anche positiva questa fase. Allora se succede questo, guardate qui, pericolo per la struttura dei massimi discendenti. Ragazzi allora dopo un anno cancello questa frase, prima perché non la voglio più vedere e secondariamente perché dobbiamo andare a capire cosa intendevo con questa frase ragazzi, cioè intendevo che se bitcoin da qui in poi avesse iniziato una fase discendente c'era un pericolo nell'ambito dell'andamento del trend di lungo periodo ragazzi, perché? Perché si andava a massimi decrescenti, vedete? Uno e due e così è stato, questo è un massimo decrescente. Ora da un punto di vista di utilizzo delle trendline su un grafico logaritmico, ho fatto un video a tal proposito ragazzi, non si possono usare, ma non è molto rilevante questa cosa in questo caso perché ragazzi i massimi sono comunque inferiori, quindi anche se noi diciamo una curva al posto della trendline non cambia niente, quindi questo era quello che volevo dire quando ho scritto questa frase. Questa è una situazione di pericolo ragazzi, però, però, allora andiamo a ragionare. C'è anche un'altra situazione qui, abbiamo un minimo del mercato orso del 2018 che è un po' inferiore all'ultimo down che è avvenuto, vedete, nell'ambito della famosa giornata ribassista di marzo durante questo problema della pandemia. Adesso, in sostanza ragazzi, voi mi direte, ok, è un triangolo, no, non è così, perché non si può disegnare un triangolo su un logaritmico, su un grafico logaritmico, è matematicamente sbagliato fare questo ragazzi, ok? E quindi vi state prendendo in giro in pratica, se fate una cosa del genere. E se vedete un grafico logaritmico di bitcoin costruito con le trendline disegnate così, non è vero, ragazzi, è falso, chi l'ha fatto evidentemente non conosce la matematica, perché non si può disegnare questo tipo di trendline e questa figura su un grafico logaritmico, è proprio un errore matematico, quindi queste cose ragazzi non le fate, va bene? Mi raccomando, facciamo attenzione su questo discorso. Allora cancello anche questa e cancello la mia frase, non la voglio più vedere ragazzi, mi aveva seccato dopo un anno questa fase, avevo dato però poi anche ai tempi un target della chiusura del ciclo annuale intorno ai 5.700. Cosa è successo ragazzi? È successo che tecnicamente l'annuale bitcoin dovrebbe averlo chiuso, dovrebbe sempre, perché ancora non abbiamo idea, intorno appunto alla data di novembre-dicembre, vedete qui dicembre 2019, toccando un prezzo che era ben più alto della mia chiusura, circa 1.000 dollari in più, quindi 6.700. Poi però avviene questa cosa, che è il problema di fondo, che in questo momento ci confonde totalmente diciamo la nostra view ciclica, perché questa cosa qui ragazzi può significare due cose, ok? Attenzione in questo momento ragazzi vi dico una cosa importantissima su quello che saranno i prossimi mesi, attenzione, fate assolutamente attenzione. Allora questa e questo evento ribassista è un evento ragazzi che può indicare o un ciclo annuale ribassista come quello che in questo momento io sto prendendo in considerazione, quindi il annuale iniziato qui è rotto a ribasso, il che significa che facciamo questo ragazzi, ma poi dobbiamo riandare giù. Magari non ai minimi se consideriamo questa un evento unico, perché bitcoin ragazzi i minimi non li possiamo considerare così precisi al dettaglio, perché potrebbe essere stato solo frutto di oscillazioni del panic selling di quel giorno, però probabilmente si andrà a fare un trading range laterale, magari intorno ai 5500, insomma qualche migliaio di dollari inferiori agli attuali livelli, per poi andare a chiudere questa fase, fase che vi ricordo ragazzi è iniziata a dicembre del 2018, quindi qui tecnicamente il mercato sembra aver disegnato la sua metà, e questo è il problema, quindi se questo è una rottura di un ciclo annuale ribassista, non c'è halving che tenga ragazzi, perché se questo è così, allora andiamo a fare questo che stiamo facendo e poi ci avvicineremo di nuovo a una fase laterale ribassista, per chiudere più o meno, secondo questa view, quello che sarà il ciclo annuale in questione, quindi che va a dicembre più o meno dell'anno prossimo, scusate, del 2020, non dell'anno prossimo, allora se nel momento in cui invece questa figura è stata una eccezione, che non vi confondo ragazzi, ci sono le eccezioni sui cicli comunque, e quindi è qui che è stata chiusa questa fase e non qui, allora ragazzi potremmo avere delle velleità rialziste, perché il mercato potrebbe fare questo e poi continuare a salire e fare il break di questi livelli, soprattutto di questo livello qui intorno ai 10.100-10.200 dollari, quindi in pratica ragazzi quello che vi sto dicendo è questo, al momento non è dato sapere se il ciclo annuale è stato chiuso qui o qui, perché ovviamente ragazzi non siamo in un mondo perfetto, fessimo questa informazione saremmo multimiliardari, dobbiamo gestire entrambe le configurazioni, quella che vede l'annuale già ribassista è questa che vedete in questo momento, che è una configurazione invece rialzista, quali percentuali do alle due configurazioni? Alla prima configurazione do il 60% ragazzi di probabilità, a questa configurazione do il 40% di probabilità, andando non di più, andando avanti con il tempo, con il time ragazzi avremo la possibilità di schiarire ancora di più le idee. Se facciamo riferimento quindi alla view rialzista, ragazzi c'è ancora tempo chiaramente per salire. Il mercato quando ci indicherà se vale l'uno o vale l'altra ragazzi? Lo vedremo già nei prossimi giorni, già a fine mese di maggio, perché se la fase di debolezza per la chiusura del ciclo di maggio sarà importante, vi ricordo che qui ragazzi è iniziato un nuovo mensile, quindi questa fase di forza di bitcoin è assolutamente normale, lo vedremo lunedì comunque ragazzi nel video analisi, quello dei cicli più brevi, quindi nulla di strano nel vedere bitcoin tentare di tornare intorno agli 8000, anche questa fase qui ragazzi può tornare tranquillamente anche qui, non è strano, è normale ragazzi se va qui, vedete? È normale, ma non cambia nulla da un punto di vista ciclico di lungo periodo, questo è il problema. Solo sopra questi livelli cambia il ciclo di lungo periodo e sposta l'annuale ad essere un annuale chiuso qui e non qui, va bene? Ok ragazzi? Non c'è nessuna altra soluzione, o l'una o l'altra ragazzi, quindi basta guardare nei cicli di breve che noi vedremo ogni lunedì quando facciamo l'analisi ciclica dei mercati, basta guardare questi cicli di breve e avremo notizie su dove stiamo andando, perché vi faccio capire, questo potrebbe essere stato un megaciclo ragazzi, disegnato così, vedete? Adesso vi faccio capire l'andamento di questa fase, che si concluderebbe in pratica, se fosse così ragazzi, si concluderebbe con un ciclo di accumulazione, ok? Perché, e questo è, mi preme dirvelo ragazzi, mi preme dirvelo, potrebbe tranquillamente essere un ciclo che in questo momento è tendenzialmente laterale ribassista, ma fino alla chiusura di quest'anno ragazzi, poi andrà visto, cioè stiamo parlando di dicembre 2020, non è tanto tempo ragazzi, considerando anche l'attuale situazione, poi da qui in poi però potremmo anche assistere a quello che tutti ci aspettiamo, quindi una fase completamente diversa di bitcoin ragazzi, perché si aprirebbe uno spazio per una nuova fase, quindi questo ciclo che noi stiamo vedendo, che è stato un annuale già chiuso probabilmente, ve l'ho detto, al 60% per me è già chiuso, ed un annuale invece di bassista laterale che va ad essere un annuale di conferma ragazzi, di prezzo, cioè in pratica di respiro, a questo punto poi potremmo una volta passato questo tempo, cioè dicembre probabilmente assistere a una nuova fase, ma se questa fase è già stata costruita così come vi ho detto, allora questo sarà l'andamento fino a fine anno, se invece è un'eccezione solo in quel caso appunto che vi ho detto, che è andata così a fare la M, allora potremmo avere anche questa fase qui, ma non c'è ragazzi in questo momento, non c'è modo di saperlo, se Bitcoin non supererà 10.002, al momento questa view però ragazzi non più del 40% di probabilità, è più bassa la probabilità che sia così, almeno dal mio punto di vista. A fine maggio chiariremo questo, perché avremo già la forza della close del mese di maggio ci dirà se il mercato vuole andare su o vuole andare giù, e lo riusciremo a vedere con questi video. Bene ragazzi, vi ho fatto capire questa cosa per introdurvi in un altro argomento, il fatto che Bitcoin potrebbe tranquillamente chiudere quest'anno 2020 in laterale ribassista, ma non cambiano le view di lunghissimo periodo su quello, andremo a ragionare con calma, perché nelle fasi di grandi rialzi ragazzi, di strumenti finanziari, quello che dovete ricordarvi è che grandi rialzi sono sempre preceduti da grandi fasi di accumulazione, e per grandi intendo di tanto tanto tempo, quindi due anni di accumulazione ragazzi sono corrette per una fase che potrebbe poi fare il boom. Ne parleremo nel canale, nei prossimi, nei prossimi video. Ciao a tutti ragazzi, buon weekend anche se ancora in quarantena, buon 25 aprile, ciao! Ciao a tutti!